Due passioni forti, il volley e la cucina, due sogni che nella sua vita hanno avuto lo stesso peso. Domenica Auriemma, pallavolista e cuoco, vive una vita a due velocità e lo fa con grande impegno e spirito di sacrificio. Foligno è la sua casa sportiva, Masterchef è quella in cui sta dando spazio a tutta la sua creatività e bravura in cucina. Uno che delle mani ha saputo fare un prezioso strumento, che sia una schiacciata sul campo di gioco, che sia una ricetta classica o evoluta nella cucina italiana. Il giovane atleta di ospedaletto è riuscito a conquistare il grembiule davanti a mostri sacri della cucina internazionale. All'esordio stagionale della trasmissione, Auriemma conquista il palato di Bruno Barbieri, Gioe Bastianich, Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli con ben 4 sì. Il giovane cuoco ha avuto 45 minuti per realizzare un piatto e 5 per completarlo al cospetto della giuria. Il titolo della sua creazione è stato Appunti di Viaggio. L'auspicio è che il suo percorso sia in campo che davanti a Fornelli gli regali sempre tanti successi. Intanto l'Irpinia si gode un altro suo campione.